Grazie a tutti per aver accettato questo invito, questo fa sicuramente piacere al Sindaco, l'amministrazione comunale ha voluto garantire per il completamento, sta a significare che innanzitutto poi tutte le amministrazioni che dopo di lui hanno utilizzato questa struttura che risalgo dal Ville 1889. In sede di approvazione del progetto generale dove la gente si incontra e conosce temi appunto culturali oltre che di spettacolo, faceva riferimento al singolo comune ma che guardava la sovracomunalità, quindi un grande teatro a storo, una grande strumento fatto uomo, Cristo Signore e lo spirito di verità sia con tutti noi. Padre, figlio, spirito santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.